Chi è questo? Oddio, aiuto! C'è un intruso, aiutateci! Chi è? Ehi, siamo venuti a comprare le pizze. Bello questo locale, Tre Bernardi, no? E ho detto, ma quasi quasi mi presento anch'io. Posso cantare anch'io? Ma a me l'hai invitata tu? No, veramente noi dovevamo continuare con la premiazione. Chi è che l'hai invitata? Lì, scusi. Lei chi è? Mi sa chiama, mi sa chiama. Buono che sei, mi. E tu? E io che? E tu chi sei? E io sono... Spara! Che vuoi sapere? È di tua buona lui che vuoi sapere di me. Spara, me lo be, stai qua. A me. E mio marito è morto da pochi giorni. Non lo so, io direi, io me ne vado perché mi sento di troppo io questa volta. Non andare via, Amelia. No, devo rimanere. Che ci faccio io tra di voi? E il disgraziato del supermercato non mi ha portato la spesa. Allora ho detto, adesso mi prendo due pizze. Ehi, ma non pensavo di trovare una buona come te. È buona. È buona. Se lì diventa duro me ne faccio anche quattro chili che quello ha già problemi. Giovane ma con tanti problemi. Ehi, oh yeah. Poi mi sono preso un bel pesce. Un bel pesce. Ho detto, mi dia una bella occhiata. Venti minuti guardandomi è stato. La taglio che c'ho fredda. Però meno male. Un momento che mi sta squinnando il cellulare. Un momento. Attenzione. Pronto. Ehi, arrivo adesso. Sono a pizzeria. Ha le tre bernarde. Così si chiama? Lanterne. Ah, ha metto le lanterne. Ehi, un attimo ancora non è pronta. Ha detto, buono anche il fornero, quello che fa le pizzerie. No, no, subito, subito sto arrivando. Ehi, questo cellulare me l'ha regalato lui quel ragazzo. Un bel gamba. Ehi, il portacellulare me l'ho comprato io. Sì. Ehi, ehi. Aspetta. Aspetta. Sono sicuri qua. Tutta questa agitazione. Questo è il coltello per quando mi violentano. Siccome mi vogliono sempre violentare una volta solo. Allora eliminassi o due o tre volte. Come no? Oh. Le cose si fanno bene, si fanno. Una volta cosa? Ma? No. Iii. Ma? Oh, ma che sei? Eh. Oh, scusi che mi sono sceso. Il perizomano è sceso. Il perizomano. Scusi. Stai guardando lì? Eh, buongustaio. Eh. Ma vedi bene, eh? Eh. Si mette avanti. Scusi. Come ne sei già il perizoma. Aspetti. Oh. Ho sbagliato. Aspetti che no. Che vedo bene alla luce. Allora. Vediamo un po'. Allora. Il giallo davanti e il marrone dietro. Giusto? Aspetti. Ma dimmi no che qua le cose stanno andando un po'. Eh. Oh, io. Anche la spesa mi si sta rovinando. Direi o meno che disastro. Ancora qua e lei. Ancora qua e lei. Ascolti, ma non può venire a casa mia a farmi la scaletta? Che sono andato dal medico, guarda, e mi ha detto che c'è un soffio al cuore. Mi ha detto, mi ha vietato di fare le scale. Sono tre giorni che mi arrampico dal cornicione per entrare in casa. E lei non me la mette la scaletta? Non posso. Uno buono, ne trovi? Ma che? Ma scazzo però, eh? Buono, ma scazzo. Quei buon gustario la trovo adesso. Buono.